La scuderia Ferrari e Sebastian Vettel comunicano la decisione di non prolungare il rapporto di collaborazione tecnico-sportiva oltre alla sua naturale scadenza prevista al termine della stagione sportiva 2020. Con queste parole la scuderia Ferrari ha gentilmente liquidato Sebastian Vettel ancora prima che parta la stagione 2020. Nel 2021 adesso è ufficiale dunque il pilota tedesco non sarà più un pilota della Ferrari e dunque si va a concretizzare il mancato rinnovo della prima donna Sebastian Vettel che ancora una volta a seconda mia modesta opinione ha confermato quello che è il suo comportamento da divo da pilota che ha preteso molto di più di quello che ha richiesto e giustamente ha fatto in modo che la Ferrari gentilmente lo accompagnasse alla porta puntando evidentemente su un talento puro che è Charles Leclerc e dunque andiamo con questo video a completare quello che fu lo stesso video di due settimane fa sempre tratto da Formula Passion che vi lascio sempre qui in alto nelle schede dove avevo già espresso opinioni più interessanti e più approfondite per quanto riguarda l'eventuale futuro di Vettel il futuro che due settimane dopo potrebbe diventare realtà anche perché al termine di questa stagione Vettel verrà appunto lasciato andare via dalla Ferrari e quindi l'interrogativo è dove potrà andare il quattro volte campione del mondo con la Red Bull e qui anche in questo caso Formula Passion ci sta facendo uno spunto interessante ovvero due grandi possibilità McLaren e Renault che hanno effettivamente già dato i primi segnali di interessamento a Sebastian Vettel da tifoso McLaren io onestamente non vorrei Sebastian Vettel alla scuderia inglese anche perché avrei di fatto un rapporto come ho avuto quando Lorenzo è arrivato in Ducati ovvero un pilota che non mi dice praticamente niente ma che è nella scuderia per cui tifo la Renault sarebbe comunque un team ufficiale l'ennesimo della carriera di Vettel che comunque però è un team in crisi e secondo me avere un Vettel al suo schieramento potrebbe essere una botta di marketing clamorosa è una cosa incredibile quella che è successa ancora una volta dicevo Vettel ha dimostrato di comportarsi da divo quale non è perché i mondiali che ha vinto con la Red Bull li ha vinti ancora una volta ricordiamolo per netta superiorità della macchina e aveva dato e presentato meglio delle pretese che secondo me non stavano né in cielo né in terra si è venuto a scoprire che il tedesco Sebastian Vettel aveva proposto un biennale quando la Ferrari in realtà non aveva nessuna intenzione di proporre un biennale al tedesco e ha formulato un'offerta annuale da 12 milioni che Vettel aveva già rifiutato non è arrivato l'accordo e dunque al netto delle fasi circostanze che sono volate già questa mattina sui social dopo l'ufficializzazione della separazione tra Vettel e la Ferrari il dado è tratto quindi Sebastian Vettel non sarà più un pilota della Ferrari dopo di fatto sei anni di contratto con la scuderia di Maranello costernate da soltanto si fa per dire 14 vittorie si fa per dire in realtà fino a un certo punto perché per ricordo un pilota che era arrivato alla Ferrari con la nomea del nuovo Schumacher con la nomea del pilota tedesco come Schumacher sulla Ferrari come Schumacher che avrebbe vinto il titolo come Schumacher 14 vittorie al netto che in alcune stagioni la Ferrari era veramente inguardabili sono veramente veramente poche per un pilota che per la verità ha dimostrato molto molto meno di quello che poteva dimostrare in realtà è rimasto in lizza un paio d'anni con Lewis Hamilton per la lotta al titolo del mondo lotta però che non è bastata alla Ferrari per arrivare a vincere il tanto agonato al titolo del mondo che manca dal 2007 ultimo pilota a vincere il titolo con la Ferrari fu Kimi Raikkonen quel tanto Kimi Raikkonen che nella stagione 2018 fu addirittura in alcuni casi fatto fermare o rallentare per favorire sempre Vettel scena che tra l'altro ho già visto con un tal Leclerc nella stagione successiva a tratti il quarantenne Raikkonen andava più veloce di Vettel e dopo il cambio del pilota si è riverificata la stessa cosa un Leclerc rampante sugli scudi che andava più veloce di Sebastian Vettel che ancora una volta di fatto va a replicare quello che fece con la Red Bull al primo anno di tale Daniel Ricciardo che lo prese a schiaffi dopo che Vettel vinse quattro titoli del mondo consecutivi con una macchina veramente della madonna il pilota australiano schiaffeggiò di fatto Sebastian Vettel che scappò di fatto alla Ferrari alla Ferrari è stata una prima guida indiscussa ha portato a casa 14 vittorie però queste 14 vittorie sono state appunto più viziate anche da molti errori più che dalle stesse gioie di Vettel gli errori li ho già elencati nel video scorso che vi invito sempre a recuperare tradotto le prestazioni costanti di Vettel soprattutto negli ultimi due anni a fronte anche di poche vittorie ovviamente per via del palmarès che il 32enne tedesco si porta dietro aggiungiamo il fatto che ha sonoramente perso il confronto con Charles Kerr pilota 21enne quindi iper giovane in rampa di lancio e molto più talentuoso ha fatto sì che giustamente la Ferrari proponesse un contratto annuale e già era tantissimo che a Vettel gli venisse proposto un contratto annuale Vettel si è impuntato misteriosamente perché voleva ancora mungere la vacca fino a quando si poteva evidentemente firmando un contratto al suo dire biennale con più soldi pretese che sono state gentilmente mandate a quel paese ma onestamente faccio fatica a comprendere le richieste di Vettel che probabilmente è andato lì con l'ego del quattro volte campione del mondo con la Red Bull però sono pretese che siccome lasciano veramente il tempo che trovano io posso capire magari un Hamilton un pilota che abbia veramente delle credenziali da spendere e che possa pretendere tanti soldi per rinnovare un contratto pluriennale dico Hamilton perché comunque è una pilota che ha vinto comunque molti più di Vettel ma che Vettel che insomma dovrebbe ringraziare già il fatto che alla Ferrari gli abbiano proposto un rinnovo di contratto e non l'abbiano gentilmente mandato a quel paese prima si impunti, faccia il prezioso e ancora una volta subendo evidentemente la pressione psicologica di Leclerc è costretto a trovare altri leadi che sia la McLaren o che sia la Renault insomma la dice lunga ancora una volta sul reiterato comportamento del rischio che in questo caso è recidivo onestamente la Renault potrebbe essere una interessante soluzione dal punto di vista del marketing perché come dicevo prima la Renault è una scuderia che non sta vivendo il suo gran momento di forma con la McLaren da tifoso della McLaren spero di no però va detto che la McLaren dal 2021 se tutto va bene dovrebbe tornare a essere motorizzata Mercedes e non più Renault e chissà che magari l'accoppiata McLaren-Mercedes possa far rilanciare Sebastian Vettel la vedo veramente complicata in sostanza l'esperienza in Ferrari è un'esperienza più ad ombre che a luci sì ci sono 14 vittorie che però sono poche per la nomea e per lo status per cui Vettel si era rappresentato in Ferrari ripeto lui doveva essere il nuovo pilota tedesco che avrebbe vinto il mondiale sulla Ferrari come Schumacher ha raccolto veramente le bricele d'accordo che negli ultimi anni c'è stato un Louis Hamilton in stato di grazia ma in alcuni anni la Ferrari era veramente inguardabile negli anni in cui la Ferrari era competitiva Vettel in più di un'occasione ci ha messo del suo per sbagliare e buttare via delle vittorie o dei piazzamenti che avrebbero potuto far tornare la Ferrari sul tetto del mondo della Formula 1 e vincere il titolo del mondo che appunto sarebbe mancato dal 2007 io sono d'accordo con la scelta della Ferrari di sfanculare di fatto Sebastian Vettel al termine della stagione fatemi sapere che cosa ne pensate di questa trattativa che è saltata quindi del mancato rinnovo e secondo voi dove potrebbe finire Sebastian Vettel fatemi anche sapere chi potrebbe essere secondo voi il pilota sostituto dall'articolo qui di Formula 1 si parla di uno scambio appunto con McLaren o Renault quindi o Sainz o Ricciardo Sainz a oggi sembra il più papabile pilota ad arrivare in Ferrari con Ricciardo che potrebbe andare in McLaren se non andasse in Ferrari con Vettel che potrebbe andare in Renault qualora appunto non vada in McLaren sarebbe una sorta di scambio a tre un po' come le tre da tre squadre negli sport americani fatemi sapere secondo voi chi potrebbe essere dunque anche il sostituto del pilota tedesco e questo video extra speciale sul mancato rinnovo di Vettel finisce qui il saluto da parte di Meteotorga ci vediamo spero a un prossimo video che sia di motori di MLB quando finalmente questa quarantena sarà finita e le competizioni potranno finalmente tornare